72esimo circa del secondo tempo ovviamente, ci siamo collegati sul campo del Chiovo Verona Con Stramaccioni che sta allenando Dai, dai, giocala, giocala, cambiasso, dai cazzo, dai, e muovete Le parole, è sempre una moviola Una moviola Bene, 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 bene Buonasera Buonasera, buonasera mister Come va mister, come sta? Tutto bene, scusate sto allenando Eh sì, facciamo Scusate Annamovic No, Annamovic 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 No, no, Annamovic Rimani in porta, Annamovic, ma che stai facendo? Quello gli dice Annamovic, lui va Eh beh, giustamente Mister, allora, mister ci sente? Sì, scusate No, scusi lei Scusi lei, perché se vuole lasciamo lavorare No, no, tranquilli, tranquilli No, va bene Non mi preoccupate, sto qua, sto allenando Scusa, fai te, Ivan, fai te E c'ho un attimo un impegno Devo un secondo andare in bagno Scusa, scusa Mister, ma rimanga lì Scusa Allena anche la squadra Mi raccomando, eh Non fa, non fa Non sbaglia come con la Roma Ci siamo presi tre pere Eppure con Siena Che ce ne siamo prese due Che ti ho dato la squadra in mano un secondo E al posto che giocavano con le banane Ma no, mister, povero cordo Comunque Che ci stanno i ragazzi della radio Sì, siamo gli autogol La radio fa via Gli autogol Che hai fatto? Ha fatto autogol? No, no Ivan, ha fatto autogol la nocchia? No Già, due minuti che me ne sono andato? No Bene, bene Altro che bene, bene Male, male Male, malissimo Eccola, mister, siamo noi gli autogol Sì, lo so Ah, ok, ok Scusate, mi sono scomposto un attimo Ecco, grazie per il collegamento Che è prezioso, insomma Scusate, scusate un attimo Che fa? Che sta facendo? Mi sto a pettinare la cresta Ecco, perfetto Scusate Perché poi mi riprendono a Sky Sempre con quella Con quella sperla No, la sperla no Scusate, grazie Comunque state vincendo Uno a zero Oh, siete contenti Come la funzione a tre funziona Certo, ha funzionato Avete visto Questo cambiamento Questo cambiamento importante Complimenti Come mai? Come mai la divisa a tre? È stato un suggerimento Che mi ha dato un amico Chi? Un amico mio Gasperini Voi sapete che ho lavorato con Gasperini Ci ho lavorato quando stavo a Crotone Sì, sì Stavo su osservatore E così avevo il numero De Gasperini De Gasperini e l'ho chiamato Aspetta che mo' lo chiamo Che magari me Aspetta, Gasperini sta allenando Sta allenando C'è Pescara a Palermo Pescara a Palermo, esatto Non può che rispondere al telefono Gasperini Sono stramaccioni E dei Gasperini Ovviamente Me ne sbatto di No Sentiamo la chiamata Ecco, sì Ecco Vediamo Proviamo a fare il numero Mologhiamo Pronto che vada 0-0 Come 0-0 Va bene 0-0 Senti, ascolta A proposito Ti dicevo Tu mi hai detto Deve fare la difesa a tre Sì Dietro va bene Perché rompiamo gol Ma davanti Siamo un po' mosci Insomma Non la buttiamo dentro Manca a morì Ecco Non è che puoi dare qualche suggerimento Mettere qualche Qualche schemino dei tuoi Che Deve fare il 3-3-3 3-3-3 Manca un giocatore Mister Non può 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 3-3-3 Manca un giocatore Più 3 Più 3 Fa 9 Fa 9 Manca un A Gasperi Ma che te sei fumato Metti Metti in tre portieri Però In tre portieri Non può Tre portieri Non si può 3 3 3 E 3 3 Più 3 Più 3 Più 3 Fa 11 No È giusto Grande Gasperi Mi hai dato un'idea Lavorosa Incredibile Bella Bella idea Ma Ma tre portieri Ma come fa a giocare con tre portieri A Gasperi Ma che te sei fumato La piantagione No Va bene Gol Gol Hai fatto gol Hai fatto gol Meno male Ma è sicuro È sicuro Mi sembrava Presidente Ho sbagliato In un armadio mi beva Ma chi ti sei portato appresso Gasperi Grazie Grazie Ciao Andrea Devo andare a allenare Ciao ciao Vabbè Meno lui va a allenare Mister Non è come Sei rincoglionito questo Povero Gasperini Vabbè Mister come va la partita Come va Come sta andando Boh Non lo so Aspetta un secondo Che mi esco dallo spugliatoio Cambiasso Corri Corri Che mo te cambio Sempre con cambiasso Che lo cambio Tempo che esce Quello È finita la partita È finita Chi vuole entrarsi la mano Che mo fammi i cambi Ma che sistema è che vuole Ma tu chi sei Come chi sei Mo di che Mo di ngai Mo di chiami Ma che mo Sei manco i mo di chiami Ma no Mo di ngai Nagatomico Nagatomico Vieni qua Vieni qua Allora Mo Nagatomico Metevi ascoltare Metevi ascoltare Allora Vieni qua Allora Quando vai sulla fascia Sì E incrocia Destra Sinistra Mo Però vai Spingi Dai 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 Vabbè Corri Non rompere No Mister No Mister Sembra che non abbia capito Molto bene No Mister Non si può fare così Comunque Lì la partita Come sta andando adesso Siete sempre Sul 1-0 Giusto Perché noi adesso Qui non riusciamo A vedere Non lo so Aspetta che guardo Vediamo un pochettino Sì C'è Cassano Tagliela la palla Gargano Tagliela Tagliela Attenzione Go Go E andiamo E andiamo Sì Assegnato Il sorcaro No 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 È Chievo 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 Go Die qua Bello di papà Pieda stramaccio Pieda stramaccio Bene bene Chiudiamo il collegamento Chiudiamo il collegamento Con stramaccioni Go Non è Chievo È Chievo Caro Dai Chiudiamo il collegamento Sera Andiamo a Chievo Vero No No